Ciao Alessandro, come stai? Tutto bene sto. A che te ne parli di questa prima serata di Scoffee? È stata una serata molto eccezionale, parecchie persone sono venute a questo evento, si sono tutti quanti intesiasmati, ma la cosa più bella è che tra persone si conoscono, ma la cosa bella è che il caffè è piaciuto a tantissime persone. A proposito, ma tu che caffè usi? Io? Io uso il caffè Organo Gold. Ma quale è di questi prodotti che ci sono più di un prodotto? Ah, il mio preferito è il caffè Mocaccino. Bene, bene, ma fammi capire una cosa, ti vedi che questo tipo di attività, di opportunità di lavoro è faticoso? No, non è molto faticoso, anzi è semplice perché è caffè. Bene, bene, bene. Senti, quali sono i tuoi progetti con questo progetto che stiamo portando avanti in giro con Organo Gold? Il progetto che sta portando Organo Gold è che la cosa più bella è che si stanno affacciando moltissime persone, ma la cosa bella è che i giovani si stanno interessando di questo progetto, perché piace a tutti, si divertono, stanno tutti quanti bene in salute, ma la cosa bella è che guadagnano soldi. Ma ci si diverte tantissimo, senti che bella musica che c'è qua stasera. Sì, la musica è grandiosa, anche il DJ è uno dei più importanti di Salerno, Marco Montefusco. Ti sta facendo divertire. Bene, grazie ad Alessandro. Cosa dire ai giovani che conosci, che ci guardano da questo video? La cosa che voglio dire ai giovani che io conosco, ragazzi, informatevi, degustate questo caffè, è buonissimo, però la cosa importante, io per esempio conosco più di 50 persone che bevono caffè, quindi a loro volta conosceranno 50 persone che bevono caffè. Quindi puoi dire ai ragazzi, conoscete qualcuno che beve caffè? Conoscete persone che bevono caffè? Alla grande, grazie ad Alessandro. Sì, Alessandro. Alessandrone. Grazie ancora, ci rivediamo alla prossima.